Siate uomini di fede e di lettere, contemplativi e missionari, martiri e apostoli di carità. Portate la carezza e la tenerezza di Dio in tutto il mondo arricchendo la Chiesa e incarnando il Vangelo attraverso la predicazione, la testimonianza e la carità. Con queste parole Papa Francesco si è rivolto in spagnolo ai partecipanti al capitolo generale dell'Ordine dei Frati Predicatori, i Domenicani, guidati dal Maestro Generale Fra Bruno Cadore. Dio, ha osservato il Pontefice, ha spinto San Domenico a fondare un Ordine dei Predicatori, essendo la predicazione la missione che Gesù ha affidato agli Apostoli. È la parola di Dio che ci brucia dentro, che ci spinge a uscire per annunciare Gesù Cristo a tutti i popoli. Ma senza una forte unione personale con il Signore, la predicazione può essere perfetta e motivata, anche ammirevole, però non toccherà il cuore, che è ciò che deve cambiare. Iniziando il suo intervento, Papa Francesco è ironizzato sulla sua giornata in mezzo ai frati, con l'incontro con i Domenicani al mattino e con i Francescani nel pomeriggio in occasione della sua visita ad Assisi.